Ancora una volta il rally del Molise a Giuseppe Testa. Il giovane di Cerce Maggiore, ex campione italiano junior, in coppia con il San Marinese Massimo Bizzocchi, al volante di una Ford Fiesta R5, si è giudicato per il secondo anno consecutivo la corsa di casa. Gara vincente con il secondo posto di Andrea Minchella, in coppia con Renzetti, su una Skoda Fabia R5. I due equipaggi si sono dati battaglia fin dalla prima prova spettacolo di sabato sera, intitolata Giuseppe Matteo, grande appassionato di motorsport, venuto a mancare lo scorso gennaio. Giuseppe era collaboratore parlamentare del Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, il quale è intervenuto telefonicamente in diretta durante la prova, ricordando la figura del suo collaboratore e dichiarando che i vincitori del trofeo Giuseppe Matteo, Giuseppe Testa, Massimo Bizzocchi e Andrea Minchella Daniele Renzetti, autori di un exequo con un tempo di 2.55.4, verranno a breve premiati da lui stesso nella sede del di Castero, del che presiede a Roma. Domenica intensa per gli appassionati di motori, con tre prove dislocate su tutto il territorio molisano, partenza da Busso, poi direzione Valle del Tammaro e la chiusura a Castelpetroso. Minchella, al suo debutto sulle strade molisane, aveva preso il comando della corsa dalla prima prova, per poi cedere il passo a testa dalla successiva. La corsa del driver locale ha avuto una battuta d'arresto durante la prova di Castelpetroso, quando una foratura lo ha costretto ad inseguire il rivale, il quale a sua volta ha cercato di nuovo di distaccarlo. Testa ha invece attaccato a fondo sino ad arrivare alla soglia dell'ultima fatica, cronometrata con 1.6 di distacco da Minchella, per poi staccarlo di 1.8, trionfando perciò di soli due decimi. A chiudere il podio, il Cesenate Gianluca Casadei, in coppia con Isidori, alla loro prima gara con la Skoda Fabia R5 ed anche alla prima esperienza a Campobasso. L'edizione 2018 del Rally del Molise ha segnato successi su tutti i fronti, dal numero di iscritti in crescita alla qualità tecnica degli equipaggi che hanno preso parte all'evento, per concludere con il pubblico che ha seguito in maniera numerosa la prova spettacolo del sabato, senza far mancare il calore lungo le curve della gara di domenica. In chiusura del nostro servizio, una precisazione del presidente dell'ACI Molise, Luigi Di Marzo. In riferimento alle informazioni trasmesse ieri durante l'edizione di Domenica Sport, a proposito della questione prova spettacolo Rally e Prefettura, l'ACI ci ha fatto notare l'inesattezza della notizia e pertanto ci scusiamo per aver diffuso una notizia non corrispondente alla realtà. Inoltre l'Automobile Club Campobasso ringrazia la Prefettura per il lavoro svolto, auspicando per il futuro un clima ulteriormente collaborativo che possa consentire la risoluzione delle problematiche emerse.